eccoci qui di nuovo questa volta abbiamo fatto questo mix ci mettiamo il nostro sale poi uno mette la quantità di sale che deve mangiare io ne metto tanto perché essendo a dieta ci ho problemi di praticamente di pressione molto bassa e allora sono costretta a mangiare più salato delle altre persone con bocchino pezzo adesso siamo pronti sistemate abbiamo una giratina sono abituata a dire non sarà sempre le mani cucina non mi trovo con l'utilizzo di utenzioni perché secondo me come viene con le mani non riesce con le altre cose prendiamo il tutto e andiamo nella nostra mettiamo 195 il tempo varia però la mettiamo 25 minuti poi in base a come vogliamo le nostre verdure facciamo andare ci vediamo dopo per far vedere il risultato finale grazie a tutti grazie a tutti